E' l'ultimo arrivato Sparvoli a regalare al Castelnuovo il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno i nero-verdi se la vedranno con la Torres. Sarà il sorteggio a definire la squadra che giocherà in casa il match. Di Fabio, con la testa al campionato, sceglie di far riposare diverse pedine fondamentali, dando spazio a diversi ragazzi della Juniors. Discorso diverso per la cinzia al balonga dell'ex Matelica Luca Tiozzo. La squadra dei Castelli, a ridosso della zona play-off nel proprio girone, punta molto su questa competizione. Infatti, nemmeno a dirlo, sono i padroni di casa ad avere in mano il pallino del gioco durante tutto l'arco dei 90 minuti. Prima emozione al quindicesimo con l'ex di giornata a Bolò. L'argentino rientra bene dalla destra ma poi calcia alto. Un solo minuto ed Alessandro a mancare da distanza ravvicinata un gol facile. Castelnuovo, Arcigno in difesa, rischia grosso però al ventisettesimo quando Alessandro con un gran destro a giro coglie in pieno la traversa. La ripresa è ancora un monologo dei padroni di casa che però non hanno fatto i conti, questa volta con uno strepitoso Natale che in più di un'occasione salva porta e risultato. Sul finale Roberti potrebbe indirizzare la gara sui binari laziali ma ancora una volta manca la precisione. Ai calci di rigore l'assoluto protagonista è ancora Vittorio Natale che sbara la strada prima a Barbarossa, poi a Nanni. Il Castelnuovo, dopo l'errore iniziale di Colì, è pressoché perfetto con l'ultimo arrivato Sparvoli che dagli 11 metri regala una storica qualificazione ai Neroverdi. Tempo per festeggiare però non ce n'è visto che domenica il Castelnuovo sarà chiamato ancora ad una prestazione super in casa della capolista Re Canatese per uscire quanto prima da una posizione di classifica delicatissima.